Nelle foto scattate in questi giorni da Sifas, la società di impianti, la situazione sulle piste. Guarda al futuro con fiducia ma anche con realismo Umberto Capitani, figlio dello storico maestro di sci Bormino Stefano, a sua volta maestro di sci da 30 anni e da 17 direttore di Sifas. Questa chiusura forzata, che disagi, che danni ha provocato alle attività allo Stelvio? Sicuramente ha creato un po' di disagio soprattutto alla società di impianti, mancato introito sugli sciatori, ma parte delle maestranze ha fatto del recupero ferie e anche gli alberghi hanno sofferto abbastanza, perché non mancando gli sciatori il ciclista tendenzialmente non si ferma a dormire e anche i motociclisti sono mordi fuggi giornate qua e là ma non continuano. Lo sci estivo è una componente imprescindibile dello Stelvio? Ma è uno zoccolo duro per la sostenibilità di tutte le strutture che ci sono al passo, al di là della società degli impianti che sicuramente senza ci estivo non ha ragione di esserci, ma anche tutte le altre strutture è lo zoccolo duro per mantenere attive tutti gli alberghi e le attività del passo. Bene dunque i biker e il motociclismo, ma non basta, sono quasi 250 infatti allo Stelvio le persone che gravitano intorno all'indotto generato dallo sci estivo. Per questo riaprire è decisivo per la località. Nei giorni scorsi gli addetti ai lavori hanno fatto miracoli per consentire gli allenamenti della squadra azzurra di Coppa sul ghiacciaio, ricevendo i complimenti della federazione. Questa vicenda che riflessioni suggerisce per disegnare un futuro più certo alle prospettive turistiche estive dallo sci allo Stelvio? Questa vicenda è sicuramente una riflessione sul far eventualmente una progettazione su un impianto di neve artificiale, ma senza delle grosse precipitazioni invernali sicuramente anche fare neve artificiale non sarà sicuramente la soluzione finale.